Assessore, un primo step molto importante si è appena concluso, il parco inizia a prendere una forma. Sì, dopo la variante del PRG, dopo il concorso di idee, dopo i progetti che sono stati approvati i mesi scorsi, stiamo entrando nella fase finale, quella che ci porterà tra qualche settimana all'avvio dei lavori di realizzazione del primo straccio del parco urbano. Un appuntamento che la città aspetta da quasi 30 anni e finalmente è questione di giorni. La scorsa settimana ci sono stati i lavori di bonifica degli ordini bellici su tutto il perimetro, circa 1.500 metri che sono interessati dal primo straccio e in particolare si vedono i lavori qui alle mie spalle nei 400 metri quadrati che in particolare saranno interessati dai lavori di realizzazione di un'area gioco particolarmente innovativa. Adesso attendiamo l'attestato di collaudo e verosimilmente possiamo prospettare per la metà di febbraio l'avvio dei lavori. 60 giorni di cantiere, quindi possiamo prevedere che per questa primavera questo primo tassello del mosaico, questo primo concreto passaggio di realizzazione di una parte del parco potrà dirsi realizzata ed essere inaugurata e messa a disposizione della città.